La comunità Emmaus di Ponticino Laterina organizza una grande vendita straordinaria sabato 16 e domenica 17 novembre. Come è nata questa iniziativa? Qual è l'importanza? La vendita straordinaria la organizziamo due volte all'anno. È un momento importante per la nostra comunità perché al di là del mercatino nostro che è aperto tutto l'anno, tre volte alla settimana, è un momento in cui facciamo delle offerte e mettiamo in mostra anche roba particolare. Il senso è sempre quello di Emmaus, comunità che si autofinanziano, che accolgono persone in difficoltà, che vengono coinvolte nell'attività di recupero di materiale usato. Questo materiale poi viene selezionato e venduto nei nostri mercatini dell'usato. Non sto a dire quanto è importante questa attività, soprattutto in questo momento perché salva dalla distruzione centinaia e migliaia di tonnellate di materiale che altrimenti sarebbe andato distrutto. Adesso c'è Greta Thunberg, ma noi dal 49 facciamo questa attività, è molto utile, è un'economia circolare che serve a ridare dignità alle cose ma soprattutto anche alle persone. Grazie all'utile di questa attività, come dicevo prima, finanziamo la nostra comunità che accoglie persone in difficoltà e poveri che lavorano sia per mantenersi sia per aiutare altri poveri. Infatti tutto l'utile che viene da questa attività e dalla vendita, anche dalla vendita straordinaria, va sia per mantenere la comunità sia per sostenere iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale e internazionale. Da quanto tempo è presente Emmaus qui sul territorio? Sì, sono quasi 50 anni, quindi è nata agli inizi degli anni 70, nel 73, il fondatore ricordiamo è Franco Bettoli, figura molto amata dalla collettività rettina perché ha coinvolto tantissime associazioni e non so se vi ricordate aveva creato un po' il forum della solidarietà ad Arezzo che ha fatto moltissime iniziative sia in Africa che in Bosnia soprattutto, soprattutto durante la guerra, iniziative che continuano a esistere ancora adesso, infatti anche in Bosnia c'è un centro Franco Bettoli con la moglie che è danese che si sono conosciuti tramite un campo di lavoro e hanno deciso di consacrare un po' la propria vita per gli ultimi, per cui nel 73 insieme hanno deciso di vivere in comunità e accogliere le persone e poi si è evoluta e Franco è stato anche più volte presidente di Emmaus internazionale, ha ricoperto diverse cariche, io sono anche un po' figlio suo nel senso che mi chiamo Franco anch'io ma ho fatto il servizio civile a 18 anni e lui è stato un po' quello che mi ha dato fiducia, io adesso sono presidente di Emmaus Italia e seguo un po' anche la comunità di Arezzo e credo che il suo esempio sia ancora oggi attuale.